Eeeh ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Allora siamo qui tornati su Sandman E quindi ragazzi, sto controllando la registrazione quindi scusate mi sono distratto ma si dovrebbe andare Sta andando e... Quindi, che è successo? Ho fatto di tutto ragazzi per portare dei gameplay che non fossero questo gioco qua Perché mi annoia Ho provato a portare alcuni vecchissimi di Delta Force Che sono tuttavia ancora molto belli Tuttavia il mio computer fa così schifo che non è in grado di leggere una registrazione di un gioco che abbia Meno di 15 anni Quindi ragazzi sono costretto ad andare avanti con giochi a pixel finché Finché non... Finché non arriverà un computer nuovo più avanti ragazzi Vabbè comunque si ho sentito dire che vi piace e a me non mi piace per niente ragazzi Però non ho alternative Ci ha anche dato molto fastidio ragazzi perché questo gioco qui La canzone che avete sentito, la musica che avete sentito un po' di tempo fa Non ricordo Che avete sentito un po' di tempo fa ragazzi Era veramente protetta da copyright Quindi abbiamo dovuto toglierla Cioè anzi Ci dicevano che se volevamo potrevamo continuare a tenercela Però tuttavia ciò insomma Dava... Dava un po' fastidio Perché ragazzi è sempre meglio togliere se ci sono i copyright ragazzi Quindi questo qui mi ricordo E c'è Sofì che dice alla sua amica Quindi... Quindi tu sei riuscito a risolverlo così giusto? Oh... Bello il fatto che ci sono i ricordi della scuola Questa cosa qua mi piace Ah ok adesso ho capito Tutto adesso ha senso Sei veramente intelligente Sofì Non riuscirei mai a fargli un problema di matematica Come me è un problema anche lei Non riuscirei mai a fargli da sola a casa i compiti Envios Non so che sia Sono invidiosa Sofì Tu sei sempre così calma Matura Intelligente Sei anche veramente molto carina Lesbica And E se io fossi And if it were me E se io fossi stata Ah e se io fossi stata abolizzata da Reagan al posto tuo Non penso che avrai trovato il coraggio per poter tornare a scuola Mi piacerebbe essere un po' più simile a te Sofì Ok amicone forever Tu l'hai abbandonato così Sei una baldracca Sofì Sei una baldracca Ehm Ehm L'insegnante ha sempre detto che fai del tuo meglio En Ehm Io le do d'accordo Sei 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 In alcune cose sei meglio di me Ehm Scusami Sofì Ah io sto ancora pensando ragazzi Che non mi parte niente su questo computer A parte giochi a pixel Madonna cara Ehm Mi compromette Mi compromette la vita questo Perché sono pesanti e rallunghi giochi come questo Scusami Sofì Per Per Ah n che ci dice Scusami Sofì perché io non ho mai fatto niente Per averti Per aver provato a salvarti da Reagan e le altre bullette A me piacerebbe Ehm A me piacerebbe aiutarvi Ma sono solo così spaventata Quindi Rimango solo a guardare Mi dispiace davvero tanto Ehm Guarda Ehm Ehm Non dovresti neanche farne Infatti n Ehm Mi piace solo sapere che stiamo Che stiamo bene assieme Grazie Sei la mia migliore amica Sofì Yeee Ok Sofì Ci chiamano Ed è il nostro amico Eh David Hai trovato qualcuno sveglio Ehm No proprio no Ho cercato l'ospedale e l'hotel Ma non c'era una singola persona Con gli occhi aperti Mmm Cosa riguarda i tuoi amici Ehm La tua amica Sofì Ehm Non l'hai trovata? No Beh L'ho fatto Ma è scappata Scappata? Cosa intendi scappata? Ehm Immagino che tu non mi creda Vero David Ho dovuto fare il bagno al cane Prima ragazzi Veramente Sono un po' stufo Ehm Strane ombre nere Ah si Qua gli racconta la storia Ma io gli crederei Vedendo che sono tutti Per terra svenuti In questo modo Cioè Ehm Ombre nere strane Che cosa potrebbero essere? Non ho mai sentito Niente riguardo a questo Ehm Mi credi? Ehm Beh Non è una bugia Non ha Ah La mia lingua maledetta Beh non è una bugia Vero? Ehm Io poi so che tu Non sei una tipa Che mente Ok grazie Perché mi stai credendo Ma Mi chiedo Cosa stia succedendo In questo posto Non c'è nessuno Nessun sveglio Queste ombre Si Non è proprio normale Ma 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 ciò non significa Che noi non possiamo Necessariamente Fare niente Fare niente Cosa intende Andrò a controllare Altra gente Eh Per vedere se Certa gente sveglia Forse troverò Qualche Risoluzione A questo problema Sofì Vieni con me Questa volta Come ti ho detto È troppo pericoloso Ma Io intendo Non è Meglio andare Porta a porta Non è molto Non è molto efficiente È solo che Mi sento molto più sicuro Mendoci con me E Sapendo che Sapere che te ne vai Da sola Nell'oscurità E robe varie Va bene Ok Potresti almeno Dimmi dove vai a cercare Io stavo pensando Di andare a cercare A Ovest E Potrebbe essere Che tutte le persone Si siano unite Che tutte le persone Sveglie Si siano unite Perché anche loro Sono svegliate prima Hanno paura Quindi si uniscono Quindi io andrò a cercare Blam Blum Blum Per Mal Ah ok Capito Ma Prova Cerca di stare fuori dai guai Ok Torna in questo parco Quando è finito Ok va bene E qua ci si divide Va bene La salva Ogni volta salvare In questi giochi ragazzi E ora Item Tavano map Vediamo Ah guardate che bello Che ce lo segna Bene Qui non devo neanche stare a cercare Perché ecco Questa qui è la piazza Quindi guardate qua Mister mappista Ragazzi Mister mappista Noi siamo Un attimo Io indico il dito Ma voi non potete vedere Noi siamo qui Dobbiamo andare Andare qui Quindi basta andare verso l'alto Girare a destra E la prima E siamo arrivati Voi direte Mister L Non ci voleva niente Però arrivarci a fare Una simile conclusione Lo so Lo so C'è un muro ragazzi Sono in panico Aiuto Mi sono già perso No Mi sono già perso No Ma che cazzo Ma qui c'è un muro Ah no Ok Mi sono ritrovato Tranquilli Tranquilli Mister L Non si perde mai Qua su Ma che cazzo Ok un attimo Ragazzi un attimo Ma allora noi La piazza ci dice che è qua Ma Ma si dai È solo che magari non è Sono io che non ci capisco Cazzo Non mi so orientare Con le mappe Tu sei sveglia No Quindi davanti a noi c'è l'ospedale ragazzi Ospedale Item Maledizione C'è la gatta in camera mia Eh no Ora aspetti Maledizione Fufi Maledizione Non sapete quanto è stressante Vivere a volte ragazzi Quindi L'ospedale è Madonna mia ragazzi Non faccio schifo con le mappe Ok quindi eccolo qua L'ospedale è qui Quindi noi il nostro parco Si trova più o meno Qui Quindi noi dobbiamo andare Giù Giù Destra Ok Ok Quindi Giù Ma non è precisa la mappa Giù E ora dovremmo girare a destra Oh Mister L Motherfuck Sa sempre dove andare ragazzi Ha bisogno di 30 mappe Di un gps Ma sa sempre dove andare Eh elettronicamente è bloccata Eh insomma è normale che sia bloccata Doveva essere veramente una ladra per rompere la porta Ehm Cioè Doveva essere veramente una ladra per rompere la porta Come faccio ad entrare Io c'ho un amico ragazzi che Non è i Chris Che voi lui Come dire tu hai la password sul telefono Lui arriva là e ti risetta tutto anche se c'è la password Ti cracka cose senza problemi Ti fa tutto quello che riguarda l'hacking l'editing tutto quanto ragazzi Ci voleva lui Un pannello per la sicurezza È fatto da una compagnia È chiamata Safety Guard Safety Guard No non sono sicura Ma io penso che io abbia bisogno di una Carta di sicurezza Se voglio aprire questa porta Mmm Dove faccio? Come faccio a trovare una di queste? Sui car... Sulle carcasse delle persone Madonna Sulle carcasse delle persone che sono per terra ragazzi Eeeh Ok andate Vediamo se la mappa ci suggerisce qualcosa Un attimo che sto controllando Io consiglierei di controllare sulle carcasse di tutte le persone che sono qua per terra Carcasse che poi sono vive ragazzi Che sono io che dico stupidamente carcasse Che ore sono? Vabbè mi sto abbastanza divertendo Quanto? Ah solo 11 minuti Non va bene Minimo 15 Quindi No dai ti prego Non voglio editare il video Fa che trovi subito Una metropolitana Vabbè ragazzi Io devo andare in giro Finché non trovo il punto giusto Quindi Stoppo qua E ci si vede dopo In compenso ragazzi Ho capito Dove era più Cioè ho capito un po' Ora so un po' orientarmi ragazzi Ora noi siamo qui E in altra destra Ci abbiamo la chiesa Vediamo se ha ragione Che cacca K Allora un attimo Qua devo fare che a destra Stavo una mappa No perché io sono andato in alto a destra In realtà si vede che seguendo la mappa È un po' più a destra e basta Che poi K Non sta neanche per chiesa Per me Cosa c'è per di qua? Ecco qua Stavo per kindergarten Ma kindergarten è tedesco? Vabbè ok 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 Era Era la mappa che era un po' sputtanata Per il resto Ok ho capito Ho capito ragazzi Ho imparato ad orientarmi Qui siamo davanti al panettiere ragazzi Ho deciso che siccome questo gioco qui Permette l'esplorazione Di farlo mezzo Uh Questo qua mi sa tanto L'ufficio della sicurezza Tipo Stare riposando Di fare No come si chiama L'esplorazione un po' con voi Quindi anche se ci saranno grandi tagli Un negozio di convenienza Ce ne porto automatico Ma non si aprirà Dannazione Dai Sparami Sparatemi delle carte Per hackerare le robe Ma dannazione Ok Ah ah Sì Sì Una macchina di una compagnia Chiamata safety guard La stessa che ha fatto Le tessere C'è qualcuno che sta Dormendo dentro Un lavoratore per la security company Ehi La porta aperta Posso andare Sì Mr. Ellis The best Motherfucker Ok Ah guardate anche dentro l'auto Un uomo che sta dormendo Che indossa un uniforme Potrebbe avere la carta Scusami signore Lascia che ti Perquisisca Ah Security card Eccola qua Abbiamo preso una security card Usciamo subito Senza esplorare nient'altro Ok Voglio che scriviate nei commenti Ragazzi Mr. L Uguale Sherlock Holmes Perché veramente Sto andando In questi giochi qua Ho sempre fatto schifo Ma mi sento fiero Di orientarmi con le mappe Mettendoci tipo Solo 5 minuti Ragazzi In una mappa Che di per sé Sarà di 20 metri Trovare subito Le robe Ragazzi Madonna mia Proprio Siate fieri Del vostro mister Ok Exit Devo controllare Item Security card Safety guard Abc 1 10 21 6 Cosa Cosa Io non Faccio schifo In queste cose In criptografie Ragazzi Io Abc De Cosa sono Orari Non sono orari Perché qua Vedo che vanno Fino a 26 Perciò 25 guide Un po' Sono essere Tipo a mezzanotte Ma che roba Sento puzza Di walkthrough Ah ok Ok Forse ho capito Ragazzi Forse ho capito Item Ma vaffanculo No Non ho capito Un cazzo Un attimo Quindi Quindi Qui c'è un 17 Qui invece c'è un 3 3 Più 2 Fa 5 Più 1 Fa 6 La coerenza 6 5 8 2 Enter No Ma dai Merda Ma che roba Enter Vaffanculo 1 2 3 4 Alcune volte Le password Sono così Vaffanculo Non voglio Guardarmi Walkthrough Quindi cerchiamo Di capire qualcosa Qui c'è un 1 Qui c'è un 2 Qui c'è un 3 Potremmo inserire 6 numeri Adesso ho capito Forse ho capito Quindi quindi 1 1 è qua Quindi no Ho avuto 0 Per sbaglio Exit 1 è là Sulla E Quindi io dovrei andare Su item Seguiti card 24 Dove scrivere Un attimo Che ragazzi Ora Mister risolve i misteri Un attimo che scrivo sul tavolo Quindi 24 è il primo Ok Quindi ora Sarete stra fieri Di me No non è vero Non ci capirò Un cazzo E sarà sbagliata Ci scommetto Quindi 2 Su 1 2 3 È il quarto Della Vaffanculo È il quarto Della B Quindi io Ora vado su Ash Item Security card 1 2 3 19 E E E poi ci abbiamo Il secondo Della A Che Maledizione Che è Mai 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 Che è Cos'è il secondo Giusto 17 Ok Vediamo se Mi strella Ha avuto ragione Sì Sì Forse mi strella Ha avuto ragione Ragazzi Quindi 1 Era 24 Quindi 2 4 Il secondo Era 19 1 9 Il terzo Era 1 7 Madonna mia Se è giusto Ragazzi Proprio Voglio Che vi Create 30 Account Farsi Lasciate 30 Like Con Ognuno Di essi 7 7 Fatelo 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 La serie Non va avanti Se non c'ho Minimo 30 like Ragazzi Quindi Quindi Create Un sacco Di Account Farsi No Dai Ragazzi Io Stoppo Qui E Devo Mettere Io Pensavo Che mi sarei Annugliato A bestia Ma Mi sto Divertendo Ragazzi Non Non è Pessimo Come Pensavo Anzi Sta andando Anche Benino Diciamo Quindi Io Interromperò Qui Gameplay E Sto Controllando Se è tutto a posto Se è tutto a posto Ci si vede Al prossimo video Ciao a tutti